gioia sport il blog con tutto lo sport della tua città gioiasport.com gradita visita oggi alla polivalente spettatore d'eccezione Fofo Palmieri portiere della C Gioiese nella trionfale stagione 93 94 Fofo grandi ricordi ma soprattutto qua ormai siamo ad un tiro di schioppo dalla serie D nell'interregionale mancava la Gioiese da troppi anni sono passati troppi anni dall'ultima volta noto con piacere che questo impianto può supportare benissimo la nuova categoria ho visto con piacere che il pubblico si sta riavvicinando sempre di più complimenti e speriamo che la dirigenza lavori bene e possa portare una ventata di novità nell'interregionale dell'anno prossimo Fofo pura casualità ma il tuo arrivo oggi a Gioia è coinciso con la riapparizione dello storico striscione Brigate Viola il gruppo portante del tifo Viola che negli anni 90 tu li conosci molto bene supportavano la Gioiese in tutti i campi nelle mie foto preferite nel mio archivio personale anche su facebook c'è una fotografia delle Brigate Viola che conservo con me e anche sullo stesso network ho detto che sarei venuto qui a Gioia salutare gli amici di un tempo e l'ho fatto un piacere Fofo per concludere si festeggia domenica a Branca Leone ma a questo punto giorno più giorno in meno non ha molta importanza la cosa seria è bella vedere di nuovo la Gioiese speriamo subito a Branca Leone se no la partita successiva in casa qui al Polivalente Gioia Sport il blog con tutto lo sport della tua città gioiasport.com